Torna in parte in festa per tre giorni sino a domenica per la trebbiatura. Dopo la festa della Mietitura, che ha visto la partecipazione di grandi e piccini, Colle San Vito è protagonista ancora di una tradizione importante per il paese e per tutto il popoloso comune. Una festa che si inserisce in un progetto ben più ampio dell'Associazione Rocca San Vito, volto alla valorizzazione delle tradizioni legate alla cosiddetta stagione della civiltà del grano. Nei giorni della manifestazione si ripropongono riti, prodotti locali, attrezzi e costumi di un tempo. Il paese viene chiuso e diventa un vero e proprio set, con un itinerario animato dagli artigiani di una volta, accompagnato dall'assaggio dei sapori tipici, tra archi e rue. Durante le giornate di sabato e domenica sarà possibile intrattenersi infatti con gli itinerari degli attrezzi e degli antichi mestieri e con quello dei sapori, mentre la sera ci saranno spettacoli e balli per tutti. Lo spazio culturale prevede invece questa sera alle 22 la consegna della targa La Spiga d'Argento all'Istituto Comprensivo Comenio e la presentazione del progetto ricerca sul grano solina e sul pane, realizzato dalle scuole elementari e medie in collaborazione con l'Associazione Rocca San Vito. Domenica alle 22 la targa Spiga d'Argento andrà invece a quei torni impartesi che si sono impegnati in attività culturali, sportive di impresa e d'arte e che si sono distinti per le loro capacità e per i loro traguardi raggiunti.